La proposta che oggi portiamo è una mozione perché sono 70 anni esattamente che manca la variante dell'uscita del casello di Pegli. Infatti marzo scorso purtroppo abbiamo dovuto assistere all'ennesima vittima in quel contesto e adesso presentiamo questa mozione per dimostrare di portare delle soluzioni. Le soluzioni dovrebbero essere quelle di creare una variante che permetta ai mezzi pesanti di poter passare là. Perché per quanto ci riguarda i mezzi autoarticolati, le autocisterne dall'uscita del casello di Pegli non dovrebbero più uscire. Infatti ne escono parecchi anche proprio perché lì c'è collocata la Carmagnani e la Superba che come sappiamo che abbiamo portato avanti fino all'inizio dell'insediamento di questa nuova nostra amministrazione e le battaglie che abbiamo portato per il dislocamento di Carmagnanti e Superba e quindi quella variante lì va per forza messa. In questo momento l'assessore ci ha annunciato che c'è una modifica della viabilità con un semaforo e l'allargamento della curva. Secondo noi questo non è un problema, non ovvia alla realtà difficile che in realtà la delegazione subisce. Sappiamo benissimo che Multedo è in seria difficoltà da anni ed è completamente abbandonata. Quei camion passano in mezzo alle case e creano pericolo e incolumità ai cittadini.